Versate un filo d'olio Ok, allora adesso prendiamo mezzo mestolo abbondante di uovo Allarghiamo bene l'olio nella padella e versiamo Facciamo coagulare questa prima parte in questo modo La rompo leggermente in modo tale che aiuto la parte superiore a coagularsi Perché vado a rompere, passa l'uovo sotto e si coagula la parte sottostante E poi piano piano iniziamo ad avvolgere la nostra omelette Dobbiamo arrotolarla di volta in volta stratificandola con il prosciutto cotto In questo caso, vedete, arrotoliamo, arrotoliamo ancora Voi regolatevi la piastra in base alle vostre esigenze di temperatura Ok, arrivati sul fondo così, portiamo l'omelette sulla parte di nuovo frontale In questo modo Aggiungo altro uovo Qui E faccio coagulare anche quest'altro uovo che ho aggiunto Piano piano Ci posso mettere in questo punto qualche pezzo di prosciutto Non ve lo dimenticate Quindi una fettina di prosciutto in questo caso, così E continuo ad arrotolare la mia omelette Così Arrivo al fondo E la riporto di nuovo di là A sto punto metto un goccio di olio Perché inizia la padella a chiedermelo Me ne accorgo perché inizia un pochettino ad attaccare Quindi mettiamo un goccino d'olio E rimettiamo altro composto Grazie a tutti